Presenta Parto Baby! Buongiorno! Ciao a tutti! Partiamo subito! Veloci! Vai! Giochini per i bimbi? Sono aglietti? Senti qua! Senti come suonano! Guardate tutti gli giochini attaccati! I dudù! Vieni, vieni con l'altro dudù! Guarda un po'! Dudù e le collane da mordicchiare! Palline in silicone, palline in legno non trattato! Anche gli anellini da mordicchiare! Da sticchiare! Questi altri giochini! Guarda qua! I dentini! I braccialettini! Guarda belli questi! Belli col pesciolino! Altri dudù! Le collanine! I portaggiù! Con la clip! Un altro portacciuccio! Suoniamo! Vieni, vieni! Fa vedere l'animaletto lì! Ci sono anch'io! Veniteli a prendere! Dai, bimbi! Guarda questo! Portacciuccio! Per la mamma e per la mamma e per la ditta! Ci sono anch'io! Venitemi a prendere! Vi aspettiamo nei mercati di Cesena, mercoledì e sabato, gambettola, giovedì e Sant'Arcangelo! A venerdì! Ciao!